Ad un mese dalla riapertura post lockdown, le aziende registrano fatturati ancora ridotti rispetto al periodo precedente l'emergenza sanitaria. Lieve crescita, gli si dichiara soddisfatto di aver riaperto calo medio del fatturato per tutti, con una leggera differenza tra bar e ristoranti. I consumatori hanno ripreso il loro cammino per lo shopping nelle strade della città di Salerno. Molti negozianti si dichiarano soddisfatti, altri invece ancora registrano un rallentamento nelle vendite. Così quanto ha dichiarato ai nostri microfoni l'assessore al commercio Dario Loffredo, che rimarcando che dal 22 giugno sarà facoltativo l'utilizzo della mascherina, d'obbligo invece nei luoghi chiusi, rimarca quanto sia importante ancora il distanziamento sociale. Innanzitutto chiaramente c'è vita, i risultati sono sempre più incoraggianti per combattere questa pandemia. Devo dire che per quanto riguarda le attività commerciali ed artigianali, trovo un senso di positività delle persone, hanno voglia di scendere, di fare acquisti, di sorseggiare un drink, mangiare qualcosa, c'è un buon senso positivo. E devo anche fare un encomio dove la stragrande maggioranza dei locali, voglio dire, danno una sensazione di tranquillità, di sicurezza agli avventuri.